Puntata di Raw che si apre con Liv Morgan, ovviamente, che flexa il suo titolo femminile e ci dà il benvenuto al Liv Morgan Revenge Tour. La campionessa dice che prima ha messo fuori giocoria Ripley e poi è diventata campionessa battendo Becky Lynch, e non si è limitata a far questo ma l'ha anche cacciata dalla WWE, almeno temporaneamente direi. Ma la ciliegina sulla torta è stata il limone tirato a Dominic Mysterio, che ha generato più di 40 milioni di visite e di visualizzazioni sui social media. Ma proprio Dominic Mysterio ha interrompere la campionessa, ancora infortunato, fischiatissimo dai fan mentre cercava di prendere parola, poi ce l'ha fatta, e ha detto che non ha idea di cosa stia facendo Liv, a quale gioco stia giocando, ma sicuramente non riuscirà a portarlo avanti quando la Mami tornerà in WWE dopo il suo infortunio, semplicemente perché la ucciderà. Liv gli ha risposto che settimana scorsa non si è presentato per aiutare Becky, ma per star vicino a lei. E quando ha detto di voler togliere tutto a Rhea Ripley, intendeva anche Dominic. Liv sembrava volesse di nuovo partire all'attacco del figlio di Rey, ma Finn Balor lo ha salvato, oddio salvato, per quanto possa considerarsi un salvataggio quanto ha fatto Finn Balor. L'ex demon ha detto che Dominic non vuole sapere nulla di Liv Morgan. E Liv ha detto ok, per adesso me ne vado, dopo aver coccolato un pochino Dirty Dom, mandandogli anche un bel bacino. Bel segmento iniziale con Liv abbastanza psycho, che però funziona, secondo me, e aspettiamo il ritorno della Mami. Shimus intervistato dice che rimetterà Kaiser al suo posto perché è semplicemente il galoppino di Gunter. Ma durante l'entrata prima del match è stato attaccato alle spalle dal tedesco, che poi è riuscito a vincere il match dopo quasi un quarto d'ora grazie, ovviamente, al roll-up della morte, la mossa più pericolosa, come dico sempre, dell'intera WWE. Certo, l'infortune al ginocchio di Shimus ha giocato un ruolo chiave in questa contesa, perché il compagno di Gunter ci ha lavorato su per buona parte del match, che è stato sicuramente divertente, con uno Shimus abbastanza in controllo, però come detto claudicante per questo problema alla gamba, non è riuscito a trionfare contro Kaiser, che prende una vittoria assolutamente di lusso. Nel backstage il Judgment Day si raduna e Priest chiede a Dominic come stia Ria Ripley, Dominic risponde che le sta lasciando il suo spazio. Ricochet ancora spappolato, viene raggiunto da Ilya Dragunov, i due chiacchierano del match che Luan Enolli avrà stasera contro Bron Breaker. Un po' preoccupato il buon Dragunov. Finn Balor contro Dragon Lee, vittoria per Finn Balor dopo quasi dieci minuti, il match non è stato niente di che e Balor ha vinto soprattutto grazie all'intromissione esterna del Judgment Day tra JD McDonagh e Carlito. Perché infatti il wrestler mascherato ha prima steso con dei pugni Carlito, poi ha connesso un superkick su JD McDonagh, ma tornando sul ring si è preso il dropkick dal Prince che poi è salito sul paletto, Cudegrà e tanti cari saluti, meno male che ha ottenuto una vittoria Finn Balor, assurdo. Poi mi fa ridere che Dragon Lee sia nell'LWO, ma non c'era nessuno a parargli le spalle durante questo match. Vabbè, dopo il match Carlito è partito all'attacco, ma Braun Strowman e Rey Mysterio hanno salvato Dragon Lee con il gigante che ha spazzolato via tutti, in men che non si dica. Nel backstage Prista ha quindi chiesto a Carlito di combattere contro Strowman stanotte, bell'idea di me. La stable nero-viol è stata raggiunta poi da Artruth, che ha detto a Carlito che quando era nel Judgment Day ha vissuto i migliori giorni della sua vita, ed Emitz ha chiesto al compagno, ma sei un idiota, siamo campioni di coppia, dovrebbero essere questi i tuoi migliori giorni. Artruth ti ha detto, ma smettila di essere ossessionato dal Judgment Day, ma vabbè. Sami Zayn sale sul ring per il suo promo dicendo che l'ultima volta che era in Pelsilvania ha vinto il titolo intercontinentale a Vrestelmania, però ora ha una spina nel fianco di nome Chad Gable. Ha quindi invitato il leader dell'Alf Academy a presentarsi, ma invece sono arrivati Otis, Akira Tozawa e Maxine Dupree. Proprio la ragazza ha detto che Sami Zayn non merita il tempo di Chad Gable, beh in teoria è lui il campione, quindi sarebbe Chad Gable a dover meritare il tempo di Sami, vabbè, dettagli. E poi devono trovare la redenzione, perché Sami Zayn campione è la testimonianza di come gli allenamenti e gli insegnamenti di Chad Gable funzionino, e poi ha fatto riferimento alle vecchie gimmick dei compagni, Tozawa che voleva essere un ninja, Otis che era Mr. Money in the Bank ma non è riuscito a tenersi la valigetta, e poi hanno ufficializzato il match tra Gable e Zayn a Clash at the Castle. Zayn ha chiesto al gruppo di svegliarsi perché sono molto meglio di quello che stanno facendo ora e di come li tratta Chad Gable, ma ecco proprio il rivale di Zayn presentarsi, si sono iniziati a menare un po' finché Gable ha chiesto a Otis di colpire Zayn, Otis si è rifiutato, Gable lo ha schiaffeggiato ovviamente, Maxine Dupree si è inginocchiata per dire smettila ti prego Chad dai finiscila, Otis stava per turnare faccia a faccia con Gable, Zayn si è ripreso, ha attaccato il leader dell'Alpha Academy che poi ha spinto il campione contro Otis che ha colpito Tozawa e Maxine Dupree che sono caduti fuori dal ring, insomma Otis alla fine ha attaccato ancora Zayn con il suo World Strongest Slam e Gable ha flexato il titolo intercontinentale, che palle, ma non è lo stesso segmento che vediamo da tipo un mese? E nel backstage Gable si è complimentato coi suoi compagni, vabbè nezzate. Brown Breaker contro Ricochet ovviamente ha vinto Brown Breaker dopo 7 minuti, il match è stato abbastanza combattuto rispetto ai soliti squash dell'ex NXT, anche perché contro aveva un vero avversario, che tra l'altro ha condotto il match per buona parte della sua durata, però alla fine Frankensteiner a riprendere lo zietto Scott e poi Spear che divide a metà Iluane Nolli e consegna la vittoria a Brown Breaker. Beh è stato abbastanza divertente, niente di eccezionale, dopo il match il povero Ricochet è stato frantumato contro i gradoni d'acciaio, finché non è arrivato Ilya Dragono va a scazzottarsi con Brown Breaker che poi è fuggito. L'LWO con solo la dragoliera e Mysterio dice che stanotte batterà Damian Priest. Dubbio. Debutto di Kiana James che in 3 minuti si libera, si sbarazza di Natalia e porta a casa al match, un match che di fatto è stato breve e poco coinvolgente, però lanciano Kiana James contro una veterana, infatti con la sua, come si chiama, 4-0, vabbè, con la sua specie di flatliner, divento stile Italia 1, vince il match. Karrion Kross interrompe un promo del New Day dicendo che la positività della stable è morta. Kofi risponde stanotte vedrai che sconfiggeremo. Ma non è la stessa roba che vediamo da un mese? Anche questa. Braun Strowman in un paio di minuti spappola il povero Carlito, nonostante la presenza di JD McDonagh e Finn Balor. Dopo il match il titano è stato attaccato da tutta la stable, Dominic Mysterio ha colpito la gamba di Braun, questo ha portato il mostro tra gli uomini a inseguire il nuovo fidanzatino di Liv Morgan che infatti si è presentata per fermare proprio Strowman e questo ha permesso a Balor e compagni di spappolare il povero ex membro della Wyatt Family. Bianca Belera e Jade Cargill, campionesse di coppia, si presentano a Raw per parlare di Zoe Stark e Shayna Baszler. Chiuderanno la loro bocca una volta per tutte. Proprio le due sfidanti si sono presentate per insultare verbalmente le campionesse e Adam Pirsa ha detto ok volete il match per il titolo? Eccolo qui, combattete. Il match è partito ma è finito per squalifica perché Alba Fire e Isla Dawn hanno attaccato Bianca e Jade Cargill dopo una decina di minuti. Un buon match, terminato purtroppo per squalifica, probabilmente perché vedremo la Fire e la Dawn a Clash at the Castle che dovrebbero giocarsela in casa e dopo il match Jade e Bianca le hanno buscate sonoramente dalle altre quattro sfidanti. Priest intervistato dice che rispetta Rey Mysterio ma stasera lo spaccherà di mazzate e durante una domanda su Liv Morgan è stato interrotto da Drew McIntyre. Priest ha chiesto come va la vita a Drew e Drew gli ha risposto vedrai che tra meno di due settimane andrà meglio perché diventerà campione del mondo. E visto che voleva renderla una cosa personale, beh, ora è una cosa personale. Jey Uso fa gasare l'arena con la sua entrata e dalle scalinate dice che ha grossi piani. L'estate scorsa ha perso i suoi fratelli, ha perso il suo cugino, ma è rimasto un combattente, si è spostato a Raw e ora compete in singolo. Non è più il braccio destro di qualcuno ma è diventato main event Jey Uso e questa scalata lo porterà fino alla valigetta del Money in the Bank. Promo rapido indolore. L'area Valkyria dice che Becky Lynch tornerà più forte di prima, ma è uno spoiler o l'hai detto tanto per dire. E il suo prossimo obiettivo è diventare Miss Money in the Bank. Ma hai copiato Jey Uso? Vergogna. YoSky l'ha interrotta. Attaccandola. Per qualche strano motivo. Vabbè sì, è vero, settimana scorsa YoSky era incazzata. Forse è per il Queen of the Ring. Gli Outers of Pain si sbarazzano del New Day in pochi minuti, anche grazie alla distrazione di Karrion Kross, che ha allontanato Kofi dal cambio per Woods e questo ha permesso agli Outers of Pain di connettere lo Wada Rush definitiva, decisiva e tante care cose per il New Day. Boh, vabbè. Dopo il match Woods ha detto a Kofi, ma che fai frate? E Kross da lontano diceva, non ascoltarlo, devi separarti da lui. Alba Fire e Isla Dawn confermano la loro opportunità titolata a Clash at the Castle perché sono in Scozia a casa loro. Cioè non so se l'han confermata, però probabilmente a questo punto sì. Main event di serata Damian Priest contro Rey Mysterio, ovviamente non per il titolo. Un quarto d'ora di match, molto divertente, un buon main event, però col solito finale ripetitivo, Rey stava quasi per vincere il match, ha connesso la sua 619, ha connesso il suo volo, ma non è bastato. Poi è arrivato Carlito, è arrivato Drago Lee, sono arrivati Balor e McDonagh, Rey li ha attaccati, è tornato sul ring e si è preso la South of Even, che ha fatto vincere il campione mondiale, che però ne esce abbastanza ridimensionato perché ci hanno fatto capire che senza Judgment Day non avrebbe vinto questo match. Però poi il campione mondiale dei pesi massimi si è rifatto nel post-match perché Drew McIntyre è arrivato per attaccarlo, lo ha colpito con la Future Shock, ha steso Balor con un braccio teso, ha dato il Glasgow Kiss a Carlito e ha suplexato JD McDonagh, ha sparecchiato il tavolo dei commentatori, ma Priest è rinsavito, lo ha preso e l'ha chocslemmato attraverso il tavolo. Buon episodio di Raw, più per le storyline che per i match, perché non sono stati nulla di che, il problema è che ho sentito un po' la ripetitività di questa situazione. Liv Morgan dice che Dominic Mysterio vuole ronzarle attorno, quindi vedremo come si evolverà la cosa quando tornerà soprattutto via Ripley. Mi convince sempre di più Brown Breaker, Raw rimane molto Judgment Day centrico, ruota quasi tutto attorno a loro, un po' stantia la situazione semi-Zain Chad Gable, però vabbè, vedremo un bel match sicuramente tra i due a Clash at the Castle e chissà che non ci sarà il tanto agognato turnil di Otis. La vostra certified è tutto anche per oggi, vi ringrazio per essere passati, vi do appuntamento per un prossimo video non so quando, vedremo, e vi saluto con il solito e calorosissimo ciao!